Lo sapevate che alcune opere dei più grandi artisti contemporanei come Balla, Burri, De Chirico sono conservate nei depositi della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e saranno aperte in via eccezionale? E che il primo arte botanico di Palermo è in realtà un giardino pensile voluto dalle storie francescane dell'ex monastero di San Vito? Volete scoprire i segreti di uno dei più importanti studi di registrazione in Italia, gli studi Fono Print di Bologna? Qui hanno registrato alcuni memorabili dischi e alcuni artisti tra i quali Bocelli, Basco Rossi, Lucio Dalla, Francesco Buccini, Paolo Conti e tanti tanti altri. Segreti e storie che verranno raccontati dai volontari dei gruppi FAI Giovani che assieme alle delegazioni FAI hanno pensato a itinerari e iniziative particolari diversi ma soprattutto a visite guidate a luoghi spesso inaccessibili durante l'anno nelle vostre città. Ogni visita è a contributo libero, mentre agli iscritti FAI o a chi si iscrive in loco, come segno di gratitudine dedichiamo corsie preferenziali, visite speciali e iniziative. Quindi da oggi controllate sul sito www.faimarathon.it o scaricate l'app gratuita per iOS e Android tutti gli itinerari e tutti i luoghi aperti. E quindi domenica 18 ottobre vi aspettiamo tutti a Granarathon!